ciao benvenuti fanciulli e fanciulle andiamo a vedere le previsioni per la settimana dal 25 al 31 dicembre 2023 chiudiamo proprio l'anno in modo perfetto colgo l'occasione per augurare a tutti 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 voi un felicissimo santo natale ed uno strepitoso inizio di nuovo fine del vecchio inizio del nuovo anno quindi auguri di buone feste davvero ad ognuno di voi ok andiamo a vedere dicevamo cosa ci accadrà settimana prossima lo facciamo con tre mazzi di tarocchi quindi scegli un mazzetto scegli uno di questi mazzi di carte quando lo avrai fatto ed ascolterà il tuo mazzetto però ascolta anche gli altri due perché troverai quasi certamente un messaggio rivolto a te anche forse ancor più negli altri due o in uno degli altri due mazzetti va bene ti lascio il time stamps giù nella descrizione di questo video così come i nomi delle carte che userò che come vedrai ho creato io ok primo mazzo di carte quarzo rosa secondo marzo ametista terzo mazzo aiuto terzo mazzo avventurina verde partiamo ciao eccoci qua quarzo rosa andiamo a vedere la tua settimana di queste festività natalizie mi viene da dire vedremo sia il natale che il capodanno partiamo con gli oracoli volume 3 se vuoi questo mazzo di carte che ho creato io ti lascio il link giù nella descrizione di questo video trovi tutte le informazioni va bene allora vediamo quarzo rosa la settimana di natale dal 25 dicembre al 31 dicembre 2023 a tal proposito ti ricordo che ho già pubblicato l'oroscopo per l'anno 2024 di tutti i segni zodiacali li trovi sul canale ma ti lascio anche il link qui in descrizione allora come trascorreranno le vacanze natalizie mi viene da dire dal 25 al 31 dicembre coloro che hanno scelto il quarzo rosa andiamo a vedere quarzo rosa dal 25 al 31 dicembre 2023 la comunicazione ma qui c'è un telefono che suona tu mi dirai è anche normale per le vacanze di natale per l'amor di dio ma se ce lo fanno vedere segno che questa è una comunicazione a cui tu tieni in modo particolare per evidenziarci la nelle previsioni penso io no voglio dire comunicazione ne riceviamo tutti i giorni vedi il giudizio e poi me ne volare un'altra la fedeltà allora qui arriva sicuramente una comunicazione e questo è nel taglio un uomo passionato insomma qui c'è un baciamano bambine se sei maschietto questo tu potresti essere te che tu decidi te di farti vivo vedi qui c'è l'amico accanto un amico uomo passionale che tu decidi te oppure potrebbe semplicemente arrivarti da un amico da un uomo un amico amico insomma un amico a cui tu tieni in modo particolare fatto sta che qui c'è una comunicazione che ci arriverà da una persona attenzione da una persona a cui noi teniamo in modo particolare a cui vogliamo molto bene e in special modo una persona che conosciamo da tempo questa non è una persona che abbiamo conosciuto il 24 di dicembre no almeno non credo da 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 come parlano è un'è che c'è scritto nuovo vecchio per l'amor di dio però io rivedo una persona insomma non vecchia come si dice non mi viene la parola con cui abbiamo già instaurato un rapporto di un certo tipo non è uno che più era il cielo va bene comunque comunicazione importante ok di affetto quindi affettuosa di affetto che ci dà determinate informazioni ci dice determinate cose belle da quello che sto vedendo ok quindi bene andiamo ancora a vedere quarzo rosa la settimana di natale dal 25 al 31 dicembre 2023 e concludiamo proprio l'anno è ok il cavaliere di spade come prima carta aspetta queste mettiamo dove posso mettere diamo è qui che le vedete l'uomo allora cavallo di spade per il quarzo rosa settimana dal 20 il fante di denari ok cavallo di spade fante di denari qui arriva un messaggio sicuramente questo ce lo ribadisco il cavaliere di coppe potrebbe addirittura potrebbe addirittura trattarsi proprio di un invito è un invito a fare qualcosa un invito a vedersi quindi sono volate due sono due queste ma non ragazzi allora quarzo rosa il re di coppe vedi di nuovo la figura maschile che esce vediamo un'altra potrebbe essere un carissimo amico un collega un padre fammi vedere o un fidanzato per carità ma insomma non solo quello voglio dire ok e qui è volata prendiamo proprio lei il cavallo guarda sono usciti tre cavalli su cinque carte tre cavalli il cavallo di spade quello di coppe quella denari quindi già tutto questo ci parla proprio di di movimento di movimento di novità di un qualcosa che che cambia appunto che si muove allora qui arrivano comunicazioni comunicazione o comunicazioni da questa persona persona che sembrerebbe molto decisa molto determinata molto sbrigativa anche nel senso insomma non è uno non è una persona che sta lì a fare tante chance insomma è una abbastanza insomma ok quindi questa comunicazione ma invito comunicazione nel senso proprio di un invito magari a vedersi a fare un qualche cosa insieme e via dicendo questa è una persona come ti stavo dicendo non credo che sia una persona proprio nuova nel senso di conosciuta da poco non lo penso non lo credo credo che si tratti piuttosto di una persona che conosciamo bene persona che potrebbe semplicemente tornare quindi magari potrebbe essere una persona che non vedi da un po' che si rifavviva si invita a fare un qualche cosa a vedersi insomma cose di questo cose di questo tipo quindi una comunicazione importante un fare qualcosa con qualcuno con questa con questa persona vediamo potrebbe trattarsi di una persona che ti ha fatta arrabbiare in un qualche modo o che comunque in passato ti possa aver deluso un po' capito comunque andiamo a vedere Quarzo Rosa Quarzo Rosa dal 25 al 31 dicembre ok il bambino stavo dicendo te lo giuro su quello che ho di più caro lo volevo dire poi ho detto vabbè stiamo zitte tanto non è troppo importante stavo dicendo potrebbe essere una persona che ha un figlio che è comunque genitore e mi esce il bambino quindi ci potrebbe stare pure quello Quarzo Rosa poi vediamo i segni gioriali magari capiamo ancora il bambino e l'amante la casa ok come sono belle stesse bille ne tirere 200 guarda fammi vedere dal 25 al 31 dicembre dai scelgo io allora su ragazze andiamo dal 25 al 31 dicembre per il Quarzo Rosa la matrice quindi qui c'è l'amante e l'amante donna la matrice guarda che bellezza la casa allora Quarzo Rosa settimana dal 25 al 31 dice è il ladro eccoci qua allora qui semplicemente guarda oltre a tutto quello che ti ho detto e qui c'è il prete insomma il sacerdote il prete o me lo volete chiamare no le sto guardando perché qui ci potrebbe pure essere allora i casi sono due o magari o l'uno o l'altro tutti i due qui c'è una novità oltre a quello che ti ho detto della comunicazione bla bla non so se si tratta della stessa persona cioè dello stesso uomo vedi l'uomo passionale che c'è qui e l'amante che è la stessa cosa ok o se si tratta di due persone diverse attenzione potrebbe pure essere va bene siamo in un consulto generale per decine di migliaia di persone quindi due cose o qui c'è questo uomo questo personaggio che arriva a casa nostra se tu sei la donna se no gli all'incontrari ovviamente tu sei te che tu vai dalla donna qui c'è questo uomo e questa donna come tu vedi ok che si vogliono bene che sono legati perché sono amanti tutte e due nel senso di cuori no uomo e donna di cuori non so come meglio spiegarmi che si ritrovano in casa in casa ma cadere sono due o ci sarà un intruso in po' e parole questi due si vogliono ritrovare vogliono non stanno insieme ma c'hanno una palla una palla ai piedi che gli tocca portarsi dietro ok in questo incontro ci sta pure o viceversa c'è qualcuno che si sottrae non so se mi spiego ma io vedo più la prima la prima chance fammi vedere il soldato la visita il gran signore capovolta e la tentazione esatto capito ragazzi io vi dico un'altra cosa non c'è scritto qui da nessuna parte lo dico per chi legge le carte però ho avuto questa sensazione io un'attenzione di non essere beccati magari se voi fate un po' qualche gioino insomma nel senso magari se voi dovete incontrare qualcuno e avete già qualcun altro da un'altra parte attenzione non essere beccati cioè qui ci può essere qualcuno che si intromette magari voi siete a fare cavoli vostri voi incontrate qualcuno dovete fare qualcosa con qualcuno qui c'è qualcuno che viene a rompervi le uova nel paniere comunque oracoli dell'amore vediamo cosa hanno da aggiungere per il quarzo rosa vediamo non preoccuparti si aggiusterà tutto effettivamente ti ho detto che questa persona che ci chiama e ci invita che si fa sentire eccolo la nostalgia del passato stavo dicendo potrebbe essere qualcuno del passato che torna qualcosa di bello in vista per te per Natale va bene quindi questa persona che si fa sentire direi una persona che si farà risentire va bene per riprendere un discorso per rivederti ti amo quindi un Natale all'insegna anche anche dell'amore fanno vedere della passione ma anche dell'amore proprio in senso lato può essere qualcuno che tu rivedi come ti ho detto un figlio che torna che ne so io un amico che tu rivedi non è detto si tratti solo d'amore e di passione qui c'è qualcuno che torna non escludo appunto che si tratti di un uomo di un figlio di un amico non pensate solo all'amore mi raccomando che viene a casa esatto che viene a casa con il figlio con il bambino quindi un passare in Natale o un altro un altro momento insomma durante la settimana con questa persona che viene con il figlio perché vi ho detto che qui si può trattare di un uomo che è già genitore non lo posso escludere da come parlano va bene mi raccomando vediamo i segni zodiacali vediamo un po' il quarzo rosa con quali segni zodiacali avrà a che fare durante questa settimana io vedo anche dei soldi quindi ci sono dei soldi anche che arrivano in questi giorni allora avrà a che fare con la bilancia sicuramente con lo scorpione con il toro con l'acquario con il cancro con il sagittario il capricorno e la riete va bene quarzo rosa poi tu mi farai sapere mi raccomando ricordati di guardare l'oroscopo che ho messo per il 2024 e sto pubblicando adesso che sto parlando con voi sto pubblicando anche l'oroscopo per tutti i segni zodiacali per il mese di gennaio 2024 perché gennaio ci siamo tu lo chiami risponde si dice a casa mia va bene quarzo rosa andiamo adesso a vedere gli altri mazzetti andiamo eccoci qua andiamo a vedere la tua settimana natalizia ametista vediamo partiamo dagli oracoli volume 3 se vuoi questo mazzo di carte che ho creato io come vedi ti lascio il link giù nella descrizione di questo video così te le vai a vedere eccetera allora con gli oracoli in volume 3 chiediamo la settimana dal 25 al 31 dicembre 2023 chiudiamo l'anno proprio con queste previsioni ti ricordo che ho già messo ho già pubblicato l'oroscopo per il 2024 per tutti i segni zodiacali li trovi sul canale settimana dal 25 al 31 per l'ametista per coloro che hanno scelto ametista dal 25 al 31 dicembre 2023 anima gemella come prima carta ok chiacchiere quindi qui c'è un parlare e l'altro lato qui vede invece la riservatezza una certa chiesura il silenzio e via dicendo quindi qui mi pare evidente qui potremmo sentire qualcuno o che non sentivamo da un po' con cui c'è silenzio in questo momento o ancora qui ci potrebbe venire fatta una qualche confessione da parte di qualcuno quindi l'anima gemella quindi da parte di 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 una persona insomma che ha un certo legame quanto meno affettivo con noi questa persona potrebbe raccontarci qualcosa aprirsi con noi confidarsi con noi rivelarci qualcosa di segreto o comunque un qualcosa che si teniva per sé so se mi spiego quindi qualcuno che ci può fare delle confidenze ok oltre a questo qui ci posso vedere proprio un incontro passionale con qualcuno quindi l'incontro con una persona che è legata a noi non solo da affetto ma anche da da una discreta come si dice attrazione fisica nei nostri confronti va bene andiamo per gradi vediamo con i tarocchi poi interroghiamo le sibille ametista cosa accadrà a chi ha scelto l'ametista nella settimana dal 25 al 31 dicembre 2023 questa voleva proprio uscire il sole ha belle 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 arte andiamo qua le vedete penso proprio un po' di simpet facciamo così così facciamo vedere anche questa allora il sole dal 25 al 31 dicembre poi il 4 di denari ho pubblicato già all'oroscopo per il 2024 per tutti i segni zodiacali va bene e sto finendo e sto finendo di pubblicare anche quello di gennaio del mese di gennaio per tutti i segni andiamo a vedere l'astrologia che cosa ci racconta quindi vatteli a vedere sul canale li trovi va bene ametista aiuto una fa che era bene viste due no una il 5 wow il 5 di bastoni il 6 di spade e il 7 di coppe guarda queste carte sono molto molto belle qui ci potrebbe essere sicuramente un qualcosa e il 6 di coppe guarda qui ci potrebbe essere sicuramente un qualcosa che ci arriva all'occhio all'orecchio un qualcosa che ci viene confidato qualcosa che ci viene rivelato come ti stavo dicendo che sia da una persona a noi cara che sia su una questione a noi molto cara che potrebbe dico potrebbe per chi di voi si può rivelare in un verso perché in un altro io qui posso vedere come vedo anche la casa una compravendita magari si parla proprio di questo ok di una compravendita di una casa di lavoro quindi magari c'è un qualcosa sul lavoro che va deciso una novità un lavoro nuovo una nuova mansione quindi si parlerà senz'altro si parlerà senz'altro anche di questo ma qui c'è anche una novità affettiva che entra a colmare diciamo tutto l'ambarada qui non escludo infatti che ci possa arrivare anche un invito un invito per andare da qualche parte con qualcuno quindi un invito per fare un viaggio magari insieme per regarsi da qualche parte e via dicendo ma qui c'è un po' passatemi termine come si chiama noi dalle mie parti questo brodo di giuggiole quando si dice tu va un brodo di giuggiole qui c'è anche una sorta di innamoramento di paroline dolci di effusioni di tutte queste cose qua ok sicuramente dei momenti di magia e qui insomma riesco a crederci bene sinceramente anche con i figli se avete dei bambini se ci sono dei bambini in casa perché qui fanno vedere anche i bambini o comunque i giovani quindi qualche personaggio giovane in casa o piccolo addirittura che sia ok qui ci sono proprio dei momenti di pura magia mi viene da dire ed il Natale è anche questo quindi per quello dicevo non me ne avanzi credere cioè è pure normale che mi facciano vedere una cosa del genere quindi senz'altro anche quello una novità sul lavoro te l'ho detto qui c'è un viaggio non lo posso escludere ci si può regare da qualche parte lungo o breve che sia non importa andare dall'altra parte del mondo quindi uno spostamento c'è ok ma guarda qui ci sono anche proprio dei progetti un qualcosa e sì fantastica per il nostro futuro vediamo un po' le civille ci mettiamo tutto insieme 25 al 30 il bambino guarda te l'ho detto ora magari ci sono dei bambini dei giovani insomma correlati diciamo no alla narrazione di queste carte vediamo 25-31 dicembre ametista vediamo il viaggio te l'ho detto ora che c'è un viaggio le civille ce lo confermano ok guarda l'allegria quindi l'allegria lo stare bene i divertimenti sicuramente e qui io solitamente quando le civille non le leggo al contrario però è uscita così e io la devo leggere così qui c'è la tristezza come tu vedi che se ne va capovolta vedi effettivamente qui c'è proprio l'allegria la gioia no i divertimenti quindi magari ci parlano anche dell'ultimo dell'anno mi viene da mi viene da da o in Natale per l'amor di Dio comunque vedi l'incostanza quindi sicuramente c'è un qualcosa che ci farà dimenticare diciamo i nostri i nostri problemi qui c'è un viaggio qui siccome c'è proprio farbaldoria non so se si vede qui c'è il ballare il bere quindi magari qui già si stanno riferendo a Capodanno visto che c'è anche Capodanno incluso in questa previsione Capodanno che tu potresti passare lontano da casa perché qui sono due volte che mi fanno vedere il viaggio lo spostamento quindi magari tu va fuori città tu lo festeggi da qualche parte festeggiamento e festa che ti faranno sicuramente passare la tristezza vedi e qui di nuovo guarda c'è una cosa che mi stanno facendo vedere tutte queste carte non te l'ho detto però lo sto pensando dentro di me dico ma che caspita fovole di allora qui mi fanno vedere molto l'aria l'essere internet non lo so perché ma me lo stanno ripetendo però non sapendo io non capendo capisco che mi parla di internet ma dico ma è che c'entra internet o comunque l'essere c'è un qualcosa c'è un qualcosa o un qualcuno che non è di ciccia di persona vicino a noi ma che lo sarà grazie al web il web o comunque la parola però lontana qualcuno non so se mi sto spiegando bene ecco mi parlano anche di questo io per onore di verità se lo devo dire però non capisco cosa centri cioè perché mi stanno facendo vedere anche proprio internet quindi il pensiero inteso proprio in quella maniera quindi tu mi farai sapere che vuol dire poi andiamo a vedere gli oracoli dell'amore cosa hanno da aggiungere a questo quadro a mefista dal 25 al 31 non vuol lasciare andare quindi qui c'è qualcuno dal 25 al 31 per l'ametiste guarda te l'ho detto ora qui viene confermata l'affetto mi dirai per forza c'è l'ultimo dell'anno e beh infatti te lo stanno confermando ora magari te lo confermano perché in questo momento che ti sto parlando tu non lo hai ancora deciso non lo hai ancora organizzato ma verrà fuori questo invito a questa festa per esempio ok oppure semplicemente te lo fanno vedere te ne parlano perché è un evento senz'altro importante cioè qui c'è proprio il divertimento qui c'è l'allegria c'è l'allegria c'è lo stare bene c'è il divertirsi ok non per nulla qui mi è uscito la tristezza te sta lì in giù come a vista tristezza se ne va so se mi spiego ok desidera intimità fisica con te quindi qui ci può essere qualcuno che è lontano e che invece desidererebbe vederti starti vicino averti accanto ok vediamo dal 25 al 31 aiuto vorrebbe che tu tornassi quindi questo invisto come ti stavo dicendo ok ci può essere proprio anche da una persona con cui già abbiamo avuto un qualche cosa va bene il mio cane che russa si lo so è sempre lui oi 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 certamente sì quindi se hai in mente un qualcosa vedi qualcuno ha una cotta per te quindi c'è sicuramente anche questo perché io vedo anche diciamo ecco un incontro un po sì un incontro ecco intimo con con qualcuno che ti desidera assai perché insomma qui c'è qualcuno ha una cotta per te va bene però andiamo a vedere adesso anche i segni zodiacali vediamo con quali segni zodiacali avrà a che fare la metista vediamo un po ho messo l'oroscopo del 2024 di tutti i segni zodiacali vattelo a vedere mi raccomando va bene per il tuo segno e per il tuo ascendente allora con quali segni avrà a che fare senz'altro con il sagittario con il capricorno con lo scorpione con il leone con il toro l'ariete con la vergine l'ariete viene confermato con la bilancia e con l'acquario ok poi tu mi farai sapere giù nei commenti come dove ti ritrovi insomma deve far fede la stesa te lo dico sempre i segni zodiacali devono essere un qualcosa un qualcosa in più comunque qui c'è un cambiamento c'è un qualcosa che cambia un qualcosa che ti arriva agli occhi all'orecchio insomma qualcosa che ti viene chiarito un chiarimento anche se vuoi con qualcuno un invito e anche un far festa quindi dei divertimenti è un viaggio comunque uno spostamento abbiamo visto anche quello va bene ametista fammi sapere mi raccomando giù nei commenti e guardati l'oroscopo che ho pubblicato sul canale io ti auguro un felicissimo natale e uno splendido capodanno ok andiamo a vedere l'altro mazzetto ciao cara avventurina verde andiamo a vedere anche la tua la tua settimana di queste vacanze festività insomma natalizie e non perché includiamo natale e capodanno partiamo dagli oracoli volume 3 che ho creato io se vuoi avere questo mazzo di carte trovi tutto giù il link nella nell'info box del video andiamo a vedere allora dal 25 al 31 dicembre 2023 25 31 dicembre 2023 per coloro hanno scelto l'avventurina verde prima carta il corteggiamento che può essere corteggiamento nel vero senso della parola ma può essere anche altro attenzione andiamo a vedere adesso cos'altro ci dicono belle guarda quanti fiori avventurina verde corteggiamento e nuovi inizi tutti questi fiori mi sanno proprio di un qualcosa di bello in arrivo allora in primis fra tutti fammi vedere che c'è qui sotto la delusione perfetto quindi perfetto sapere modo di dire effettivamente qui si va ai nuovi inizi quindi un qualcosa che ha deluso potremmo prendere le distanze da qualcosa o qualcuno che ha deluso di iniziare un qualcosa di nuovo con qualcun altro quindi qui mi viene prima di tutto da dirti guarda avventurina verde questa settimana l'ultima settimana dell'anno ti vede sicuramente corteggiato o corteggiata uomo donna che tu sia quindi qui c'è qualcuno ha un interesse per te e te lo dimostrerà assolutamente ma ci può essere a livello affettivo ovviamente no quindi una persona che ti chiede di uscire per esempio da queste carte che ti invita che ti fa una proposta che ti fa dei complimenti eccetera ma in queste carte c'è assolutamente un nuovo inizio anche di un altro tipo per esempio qui mi viene esattamente qui mi viene da pensare anche al lavoro ad un qualcosa magari un qualcosa che è scaduto che verrà rinnovato oppure proprio un discorso nuovo qualcosa di nuovo proprio che fiorisce che si apre che inizia questa è la prima cosa che mi viene da dirti ora vediamo cosa hanno da dire i tarocchi questo splendido mazzo che mi è stato regalato mi è stato donato da una di voi vero un bacione a te carissima grazie mille me lo sto godendo questo mazzo è bellissimo sono tutti quadri quindi grazie mille andiamo a vedere avventurina verde dal 25 al 31 dicembre questa si voleva girare allora qui accidenti le prime due carte sono volate lotto di bastoni la ruota della fortuna 8 di bastoni ruota prime avventurina verde dal 25 al 31 dopo la settimana delle festività e include natale santo stefano e l'ultimo dell'anno andiamo a vedere noi oi oi la regina di bastoni fante di coppe 10 di coppe e l'imperatore e con queste ci stendiamo allora ne è uscita una più ma benvenga se devono essere queste le carte e carità mettiamo le osi se non tu le le vedi tutte comunque qui c'è un cambiamento un qualcosa di assolutamente positivo a mettiamole qua le bandi fiume se o si poi ti spiego perché ok questo era il cane lo senti lo sentite ehi non so se sta sognando sogna e fa diversi poi russa boh vabbè abbiate pietà non sono io e lui e no può per dirlo allora ok avventurina allora te le dico tutto quello che ho detto fin qui che abbiamo visto dagli oracoli va bene poi qui c'è sicuramente dei momenti in famiglia qui fanno vedere proprio la famiglia l'affetto della famiglia il riunirsi in famiglia lo stare insieme con tante persone ti vedo con tante persone tu mi dirai è natale capodanno e te credo appunto te credo qui te lo confermano va bene quindi non lo passerai non passerai da solo da sola queste festività perché credimi c'è tanta gente che sono chiusa la parente comunque detto questo fra questa gente se non ci vogliamo vedere i familiari nel senso più stretto qui vedo gli amici ma amici cari amici affettuosi di lunga data gente tu conosci da una vita in mezzo ti fanno vedere proprio trascorrere questo tempo con loro fanno vedere un viaggio uno spostamento un viaggio tu vai sicuramente da qualche parte magari anche semplicemente fuori città è perché una cosa breve una cosa breve quindi tutti sposti magari fa una giornata ecco credo comunque ci sta anche che di voi possa fare magari un viaggio più lungo comunque a me di un qualcosa di veloce mi parlano e poi come tu vedrai c'è questa coppia qui c'è una regina con l'imperatore eccola la quindi o tu se fai uno di questi due personaggi la donna o l'uomo che siano ok o semplicemente avrai a che fare con queste due persone persone importanti come ti stavo dicendo ma qui arriva anche un invito una dichiarazione di un qualche tipo un invito di un qualche tipo che può essere come ti stavo dicendo di un uomo o di una donna nel senso proprio di corteggiamento un qualcuno e magari ti può chiedere un'altra possibilità o un qualcuno che ti chiede proprio di vedersi di uscire perché tu sei agli inizi per l'amor di dio tutto può essere comunque quindi un invito nel senso proprio di corteggiamento ma anche qui posso vedere una proposta positiva bella di un qualche tipo anche proprio affettiva quindi qui qualcuno ti invita da qualche parte questo è poco ma sicuro vediamo le sibille vediamo va bene comunicazioni che sicuramente arrivano io non escludo anche un incontro ravvicinato di un certo tipo allora sono volate le carte della costanza della speranza un incontro passionale intendevo dire perché non l'avesse capito allora avventurina verde dal 25 al 31 dicembre 2023 quindi qui ci sono proprio i divertimenti c'è la gente qui vede un monte di gente avventurina che tutti vedi con qualcuno tu passi dei momenti belli anche amici e anche semplicemente amici che si invitano la fortuna vedi di nuovo qui nei tarocchi hanno fatto vedere la ruota della fortuna qui c'è la fortuna di conoscere penelope vedi c'è l'altro ma sto scherzando comunque la fortuna cos'altro venturina verde dal 25 al 31 la fedeltà vedi la fedeltà tiriamo un'altra venturina verde dal 25 al 31 la visita qui c'è anche qualcuno che viene da te quindi un qualcuno che viene a trovarti e la fortuna un'altra volta la fortuna qui la fortuna qua e la ruota della fortuna una di qua no insomma avventurina verde se non ti basta dimmelo eh cioè voglio dire io ok quindi sicuramente un periodo fortunato che ti vedrà divertirti festeggiare passare del tempo con persone legate da profondo affetto a te quindi che siano familiari nel senso proprio la tua famiglia ma anche amici cari carissimi con cui tu passerai dei momenti di divertimento di svago e via e via dicendo qualcuno che ti offre qualcosa che ti propone qualche cosa denaro perché vedo anche quello non manca nemmeno quello ok ecco quindi dei momenti assolutamente belli vediamo anche gli oracoli dell'amore diciamo che vedo solitudine questo sicuramente voi due starete insieme un giorno quindi qui c'è questa persona come ti stavo dicendo anche che si propone la bellezza quindi con cui c'è sicuramente una un'attrazione siete l'uno nei pensieri dell'altro non preoccuparti tutto si aggiusterà ecco questa è una e uno posso dire per youtube questa americani malefici allora qui c'è anche passione ok passione non vuole vederti con un'altra persona assolutamente no quindi qui c'è qualcuno anche di geloso guarda mi si sono girate tutte da sé non vuol vederti un'altra persona quindi la gelosia e il ti amo eccola là e con questo è stato steso effettivamente effettivamente qui c'è il corteggiamento ok quindi qui c'è sicuramente una persona interessa o più di una persona interessata a te sia a livello passionale sia a livello proprio affettivo e t'ho spiegato tutto l'ambarada va bene avventurina comunque qui ti vedo veramente in compagnia qui vedo amici vedo far baldoria vedo la ecco tanta gente intorno a te con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina verde durante la settimana una cosa ti ricordo ho pubblicato già sul canale lo trovi ti lascio anche il link qui sotto se non vai sulla con insomma penelope e le sue carte e lo trovi l'oroscopo per il 2024 per tutto l'anno 2024 per tutti i segni zodiacali lo trovi e sto pubblicando proprio in questi giorni pian pianino anche l'oroscopo di tutti i segni zodiacali per il mese di gennaio 2024 perché insomma fra poco più di una settimana siamo a gennaio ragazzi è qui è una cosa io non so a voi ma me il tempo così boom mi va via allora aveva a che fare con il sagittario molto probabilmente cos'altro avventurina verde con quali segni zodiacali avrà a che fare allora sagittario ariete sagittario di nuovo quindi viene confermato il sagittario ariete vergine avventurina verde con quali segni capricorno leone non è solo tu possa veramente vincere qualcosa la bilancia l'ariete l'avevamo visto sì l'ariete viene confermato lo scorpione i gemelli scorpione viene confermato l'ariete di nuovo ha riconfermato per la terza volta il toro i pesci pesci e i gemelli che vengono riconfermati quindi mi fermo mi fermo qua va bene avventurina poi tu mi farai sapere nei commenti mi raccomando guardati l'oroscopo come ti stavo dicendo dei segni zodiacali trovi tutto giù sul sul canale io vedo qui tante cose belle per te la fortuna che mi uscita due tre volte insomma nuovi inizi qui veramente si va verso il nuovo una novità bella 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 sicuramente sia affettivamente sia proprio per te ti diverti l'allegria bla 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 ti ho già spiegato detto questo lasciami augurare un felicissimo natale un buon anno uno strepitoso capodanno tanto poi ci risentiamo ci scambieremo gli auguri in community sicuramente però insomma già voglio augurarvi un felicissimo natale che gesù bambino insomma ti porti tutto ciò che desideri sia a te avventurina verde sia ovviamente alla metista e al quarzo rosa ad ognuno 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 di voi va bene un bacione un abbraccio e io vi aspetto qui mi raccomando al prossimo video ciao